Benvenuti nel mio canale. Se ti piace il video metti un mi piace e attiva la campanella. Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria stanno girovagando per Milano abbracciati. Gli ultimi scatti li fanno proprio in piazza Duomo a Milano. Passando tra una vetrina di un negozio e l'altra si fermano davanti all'un negozio che vende scacchiere, la fissa di Edoardo in quest'ultimo periodo che sta guardando una serie tv dove si gioca a scacchi su Netflix. Antonella poi fa due coccole al suo barboncino bianco ma poi si avvicina geloso anche l'altro cagnolone nero ed entra nell'inquadratura spostando tutto e tutti. Ancora una sorpresa per Antonella. Edoardo prende un microfono, si inchina e le dedica la canzone che ha scritto per lei che sta andando in onda in tutte le radio italiane. Poi sbucano anche dei fiori. Antonella felicissima sorride e hon crede ai suoi occhi. I due stanno benissimo insieme e fino ad oggi non li abbiamo visti mai litigare. Tu sei dello stesso parere? Scrivilo pure nei commenti.